amici carissimi una santa sera da tutti ben ritrovati sulle frequenze della diretta facebook nuova puntata di nel ciclo di carichesi ad amo e la vita nella divina volontà chiedo subito perdono che la voce questa sera dobbiamo fare un bel atto di fusione preventivo perché è stata parecchio sollecitata oggi quindi speriamo che il signore ci aiuti ecco invochiamo subito la divina volontà sia io che devo parlare un pochino leggere più che altro e commentare un pochino questi mirabili scritti di cielo questa sera ci sarà un bellissimo passo insomma su ad amo molto significativo anche sia per quel che riguarda la sua vita sia anche per quel che riguarda la relazione tra ad amo e alcuni misteri della vita di nostro signore gesù cristo quindi come sempre ci saranno diverse belle e profonde cose su cui insieme meditare quindi diciamo che senza troppo indugiare anche perché non so fino a che punto mi assiste sorella voce e sorelle corde vocali direi di passare alla lettura del brano che abbastanza lungo questa sera un brano del 12 dicembre del 1926 tratto dal volume 20 e vedremo in questo brano le vesti che aveva ad amo che perse ad amo dopo la colpa quella che si mise in sostituzione e la relazione che questo discorso ha con un preciso momento della passione di gesù e con la sua risurrezione evidentemente poi è chiaro che come sempre c'è anche un'applicazione personale ecco e analogica certamente ma da fare proprio per ciascuno di noi comincio la lettura figlia mia nella mia passione c'è un mio lamento uscito mi con intenso dolore dal fondo del mio cuore straziato e cioè divisero i miei vestiti e la mia tunica tirarono a sorte questa è una citazione di una frase dell'antico testamento profetica di quello che gesù subì appunto la divisione delle vesti era la sorte caduta sulla sua tunica che gesù fa sua ovviamente in forma di lamento come mi fu doloroso il vedere divise le mie vesti in mezzo ai miei stessi carnefici e messa a gioco la mia tunica era il solo oggetto che io possedevo datomi con tanto amore dalla mia mamma dolente ed ora non solo almeno spogliato di essa ma se ne fanno un gioco ma sai tu chi mi trafisse maggiormente in quella veste mi si fece presente ad amo vestito con la veste dell'innocenza e coperto con la tunica non divisibile della mia suprema volontà l'increata sapienza nel crearlo fece più che madre amorosissima lo vestì più che tunica con una luce interminabile della mia volontà non soggetta né a scomporsi né a dividersi né a consumarsi veste che doveva servire all'uomo per conservare l'immagine del suo creatore le sue doti ricevute e che doveva renderlo mirabile santo in tutte le cose sue non solo ma lo ricoprì con la sopravveste dell'innocenza e ad amo divise nell'eden con le sue passioni le vesti dell'innocenza e si giocò la tunica della mia volontà veste imparreggiabile e di luce smagliante ciò che fece ad amo nell'eden mi si ripete sotto i miei occhi sul monte calvario nel vedere divise le mie vesti e giocata la mia tunica simbolo della veste regale data all'uomo il mio dolore fu intenso tanto che ne feci un lamento mi si fece presente quando le creature facendo la loro volontà fanno un gioco della mia quante volte dividono con le loro passioni la veste dell'innocenza tutti i beni vengono racchiusi nell'uomo in virtù di questa regale di questa veste regale della divina volontà messa a gioco questa lui restò scoperto perdette tutti i beni perché gli mancò la veste che riteneva racchiusi in lui sicché tra tanti mali che fanno le creature col fare la loro volontà aggiungono il male irreparabile di giocarsi la veste della mia volontà veste che non potrà essere restituita da nessuna altra veste dopo ciò il mio dolce gesù mi faceva vedere che metteva la piccola anima mia dentro un sole e con le sue sante mani mi teneva ferma in quella luce coprendomi tutta dentro e fuori io non potevo ne sapevo vedere altro che luce ed il mio dorato bene ha soggiunto figlia mia nel creare l'uomo la divinità lo metteva nel sole della divina volontà ed in lui tutte le creature questo sole gli serviva da veste non solo all'anima ma i suoi rangi erano tanti che coprivano anche il corpo in modo in modo che gli serviva più che veste da renderlo tanto ornato e bello che né re né imperatori sono mai comparsi così ornati come compariva ad amo con questa veste di luce fulgidissima si sbagliano coloro che dicono che ad amo prima di peccare andava nudo falso falso se tutte le cose create da noi sono tutte ornate vestite lui che era il nostro gioiello lo scopo per cui tutte le cose furono create non doveva avere la più bella veste del più bello ornamento di tutti perciò lui conveniva la bella veste della luce del sole della nostra volontà e siccome possedeva questa veste di luce non aveva bisogno di questi materiali per coprirsi come si sottrasse dal fiat divino così si ritirò la luce dall'anima e dal corpo e così perdette la sua bella veste e non vedendosi più circondato di luce si sentì nudo e vergognandosi nel vedersi lui solo nudo in mezzo a tutte le cose create sentì bisogno di coprirsi e si servì delle cose superflue alle cose create per coprire la sua nudità tanto è vero ciò che dopo il mio sommo dolore di vedere divise le mie vesti e giocata a sorte la mia tunica nel risorgere la mia umanità non presi altre vesti ma mi vesti con la luce fulgidissima del sole del mio volere supremo era quella stessa veste che possedeva l'amo quando fu creato perché per aprire il cielo la mia umanità doveva portare la veste della luce del sole del mio volere supremo veste regale che dandomi divise di re e il domino nelle mie mani aprì il cielo a tutti i redenti e presentandomi al mio celeste padre gli offrì le vesti integre e belle della sua volontà con cui era coperta la mia umanità per fargli riconoscere tutti i redenti come nostri figli sicché la mia volontà mentre è vita nel medesimo tempo è la vera veste della creazione della creatura e perciò tiene tutti i diritti su di lei ma quanto non fanno esse per sfuggire da questa luce perciò tu si ferma in questo sole dell'eterno fiat ed io ti aiuterò a tenerti in questa luce ondino nel sentire ciò gli ho detto io Gesù mio tutto ma come se Adamo nello stato di innocenza non aveva bisogno di vesti perché la luce della tua volontà era più che veste invece la sovrana regina possedeva integra la tua volontà e tu stesso eri la stessa volontà eppure nella mamma celeste né tu portavate le vesti di luce ed ambedue vi serviste di vesti materiali per coprirvi come faccio e Gesù è ripreso a dire figlia mia tanto io quanto la mamma mia venimmo ad affratellarci con le creature e quindi a prendere le loro miserie ed umili azioni in cui erano cadute per espiarle a costo della propria vita se ci avessero visti i vestiti di luce ma chi avrebbe ardito avvicinarsi a trattare con noi nel corso della mia passione chi avrebbe ardito di toccarmi la luce del sole del mio volere li avrebbe accecati e stramazzati a terra quindi dovetti fare un miracolo più grande nascondendo questa luce nel vero della mia umanità e comparire come uno di loro perché essa rappresentava non ad amo innocente ma ad amo caduto e quindi doveva soggettarmi a tutti i suoi mali prenderli sopra di me come se fossero miei per espiarli innanzi alla divina giustizia invece quando risorsi dalla morte poiché rappresentavo ad amo innocente il novello ad amo feci cessare il miracolo di tenere nascoste nel vero della mia umanità le vesti del fuggito sole del mio volere e restai vestito di luce purissima e con questa veste regala da bagliante feci il mio ingresso nella patria mia restando le porte aperte perché fino a quel punto erano state chiuse per fare entrare tutti coloro che mi avevano seguito perciò col non fare la nostra volontà non c'è bene che non si perda e non c'è male che non si acquisti allora il discorso comprensivo penso che sia abbastanza abbastanza chiaro ecco dobbiamo certamente cercare di riprendere e mettere un pochino di ordine tra i vari passaggi tra i vari concetti che sono del resto ovviamente molto bene spiegati da gesù no c'è un presupposto che gesù afferma che non è vero che prima della colpa d'origine adam andasse in giro nudo ma aveva una duplice veste vesti che sono come dire riprese dalle vesti che gesù aveva sulla cima del monte calvario quindi veste e tunica e che furono rispettivamente la prima stracciata e vesti stracciate e la seconda tirata a sorte ora gesù dice adam aveva una tunica la tunica era la divina volontà e le vesti erano era la veste di damo era l'innocenza queste due vesti ovviamente immateriali poste sopra di lui tuttavia lo coprivano e lo vestivano più di come fosse ben vestito qualunque re o imperatore dice gesù ovviamente occludendo alla vista delle altre creature la sua naturale nudità nudità che venne alla luce quando quando peccando si giocò che brutta questa espressione però brutta è vera la tunica della divina volontà e divise le vesti dell'innocenza con le sue passioni il che sembra evidentemente far comprendere anche alle passioni che si sono attivate nel peccato originale col peccato originale e poi ancora di più dopo il peccato originale vesti che hanno le passioni che hanno per sempre lacerato la veste dell'innocenza non solo per sé ma anche per tutti i suoi discendenti poi c'è un altro passaggio sto facendo un pochino adesso prima una ricostruzione come dire un po sintetica no un po sempre un po globale luiso obiettivo ma che dici ma scusa va bene adamo era innocente e aveva la veste della divina volontà bene e la veste della la tunica della volontà e la veste dell'innocenza dice ma quindi però al di fuori di questi era nudo quindi non aveva una veste materiale prima del peccato ma voi tu e la madonna avevate vesti normali perché insomma se sta al calvario tirando a sorte la tunica stracciando le vesti vuol dire che Gesù ci aveva delle vesti materiali com'è sta storia tu che sei la stessa divina volontà fatta carne sei vestito e adamo c'era le vesti di luce la madonna che insomma andava vestita con vesti comuni con vesti femminili ovviamente modeste e santamente eleganti proprio del tempo cioè mai le donne contempleranno a mio avviso abbastanza e imiteranno abbastanza lo stile del santo look della madonna cioè le donne cattoliche piccola parentesi dovrebbero fare dovrebbero seguire una sola moda non ci sono le mode oggi telegiornali recenti dicevano che so che è successo che la casa di versace è stata venduta non so quale casa straniera che non so quanti miliardi di euro e allora dicevano me made in italy pubisce un altro corpo a noi delle mode non ci importa proprio niente ad una donna cristiana sapete no sarebbe preferibile aggiungere cattolica ma a volte è bello proprio dire cristiana magari un giorno si potesse finalmente tornare a dire cristiano punto e basta che anche tutte queste brutte divisioni ecco tra tra cristiani fanno tanto male fanno a tutti comunque vabbè una donna cristiana avrebbe una sola moda da seguire quella di maria di nazareth non ci sono altre mode da seguire io inviderei tanto le sante donne cristiana ma come sarà stato il guarda roba della madonna che vesti c'aveva quante ne aveva quante paia di scarpe c'aveva la madonna guardate sono cose molto molto reali perché non è che la madonna andava in giro scalza forse ci andava dentro dentro casa ma sicuramente non in giro quindi la domanda di lui se è pertinente se voi eravate vestiti sicuramente con me e guardate che grande risposta che dice gesù perché noi io e lei già questa risposta ci dovrebbe proprio come dire fare impazzire di gioia e di gratitudine no io e lei siamo venuti a condividere non la vita di adam innocente ma la vita di adam colpevole e quindi ci siamo fatti solidali con i figli di adam colpevoli anche in questo i figli di adam colpevoli vanno vestiti con le vesti materiali e noi andiamo vestiti con le vestiti materiali perché abbiamo condiviso ben più gravi miserie d'umiliazioni in cui la razza umana era caduta e attenzione poi gesù spiega un'altra cosa per fare questo ha dovuto fare un miracolo oggi veniamo a conoscenza di un nuovo miracolo di gesù che non c'è scritto nel vangelo o meglio nel vangelo c'è scritto quello che sembrerebbe un miracolo ma miracolo non è era un miracolo il contrario che c'è scritto nel vangelo che a un certo punto gesù è salito sul monte tabor e si è trasfigurato davanti a lui che cosa dice le sue vestiti vennero bianche come la neve il suo volto sfolgorò e fu ammantato di luce che cos'è questo la trasfigurazione giusto e quindi la trasfigurazione non è un miracolo nella trasfigurazione gesù ha cessato per qualche tempo di stare in quello stato di miracolo continuo che faceva in modo che le sue vesti che la tutta la luce che avrebbe potuto rivestirlo era nascosta dentro di sé è contrario capite così come io dico sempre i miracoli eucaristici cosiddetti miracoli eucaristici non sono miracoli eucaristici quella è la cosa normale perché un miracolo è che gesù sia presente nell'eucaristia transustanziando le specie mantenendo vivi gli accidenti d'accordo ma che l'eucaristia diventi un pezzo di pericardio quello questo è quello che sempre accade e che ordinariamente gesù nasconde attraverso vedete le specie eucaristiche quindi bisogna un attimo anche resettare un po la categoria del del miracolo d'accordo almeno per certe cose questo dice al momento della risurrezione non c'era più motivo di continuare a mantenere attivo il miracolo di nascondere la luce la veste di luce e lo sfolgoreggiare della mia divina volontà dentro di me perché a questo punto però però io risorto non ero più rappresentante di adamo innocente ma ero la primizia del nuovo adamo ero e rappresentante di adamo nella vita della divina volontà di nuovo e quindi in un certo senso di tutti coloro che in questo regno entreranno e sicuramente però anche di tutti i suoi discevoli che sfolgoreranno con vesti di luce il giorno della risurrezione ragazzi noi tutti quanti risorgeremo ogni tanto bisogna pensarci a queste cose questo corpo questa nostra abitazione sulla tenda sulla terra che come dicevo parlando di una di alcune caratteristiche del corpo glorioso della della madonna la madonna non può il corpo della madonna non può diventare cibo per i vermi il corpo glorioso corpo fuso con la divina volontà ma il nostro sì e prima che riprenda le vesti di luce ce ne passeranno di secoli no allora questa è un pochino la sintesi adesso andiamo a focalizzare alcuni aspetti anche diciamo così a scopo e come dire istruttivo catechetico appunto per ciascuno di noi allora c'è anzitutto un particolare molto molto anche bello no gesù ha sofferto per questo strappo delle vesti e per la per ritirare la sorte la sua tonica perché era il solo oggetto che io possedevo questo è anche impressionante no e dobbiamo pensarci ogni tanto gesù povero e crocifisso ma va a dire san francesco non aveva nulla io penso che ecco lo penso io insomma che in base al vangelo la testimonianza dei santi io penso che tutti noi dobbiamo farci sempre un po un po di esame di coscienza sulla povertà evangelica che sicuramente una caratteristica essenziale non soltanto di chi aspira la santità di frati di suore di sacerdoti che non c'hanno il voto di povertà ma tutti i documenti raccomandano uno stile di vita quantomeno sobrio ed essenziale però io penso che sia un punto su cui tutti dobbiamo fare un buon esame di coscienza oggi qui nel mio paesello sono molto devoti ai santi cosmo e damiano sappiamo che i santi cosmo e damiano pochi conoscono bene la storia erano fratelli a qualcuno dice gemelli comunque sicuramente germani entrambi i medici con altri tre fratelli peraltro che hanno fatto gli chiamavano gli anargiri da anarguros greco senza argento quelli che non c'avevano né oro né argento poi c'è il vangelo della messa di oggi non mettete oro né argento nella vostra bisaccia figuriamoci l'hanno proprio compiuta la lettera e hanno vissuto una vita facendo gratis gratis i medici ebbene sì non siamo su scherzi a parte gratis i medici medici gratis e che medici che hanno fatto pure il primo trapianto miracoloso di gamba attraverso un miracolo e non sono morti di fame non ne avevano niente ma non sono morti di fame sono morti terribilmente martirizzati sotto Rio Greziano non di fame ora bellissimo no? sulla croce a Gesù viene tolto anche l'unica cosa che aveva e che era anche un bene dal grande valore affettivo fatto con tanto amore da parte della Madonna no? cioè immaginiamo se cioè la Madonna ci passesse un vestito un regalo cioè con quanto amore lo custodiremmo no? non aveva più niente e pensate anche no? se abbiamo pensato intanto a queste cose guardate che se Giuseppe d'Arimatea non si faceva avanti e offriva al sepolcro a Gesù quella santissima nostra regina che è la Madonna che se l'ha ritrovato orribilmente lacerato massacrato se deve dire tra le braccia dopo la deposizione non sapeva dove andarlo a mettere capite? non c'aveva i soldi per comprare il fornetto la Madonna capite? o il sepolcro immaginate no? la divina volontà provveduta attraverso quel gesto di donazione spontanea e gratuita di Giuseppe d'Arimatea che tra l'altro fino a prima della passione era discepolo di Gesù di nascosto per paura a dargli quella sepoltura certamente non era questione di molto molto a lunga pensate se 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 avessero dovuto scavare una fossa e mettere Gesù Cristo per terra insomma no? per dire adesso tantanto è evidente che è una cosa ma una Madonna non c'aveva i soldi mi comprai la barra non c'era bene allora viviamo in un contesto insomma no? anche vabbè è quasi retorico insomma dire che Papa Francesco su questo insomma tutto che si può dire meno che su questo insomma non dia non soltanto non faccia tante prediche tante esortazioni ma dà anche questo lo fa già da cardina una testimonianza esemplare su questo cioè sapete che molta gente consideratamente insomma a volte lo critica ad attacco su tante cose ma penso che su questo non ci sia proprio niente da dire tutto si può dire meno che questo non stia portando una grande testimonianza evangelica di povertà evangelica virtù che non non sempre diciamo così è ben vissuta non soltanto con gesti forti capite a rinunce possedere fa mettere a fare il medico gratis come facevano Santi Cosma e Damiano ma la condivisione dei nostri beni l'attenzione a non sprecare niente io raccontavo tante volte no e ai primi tempi insomma che mi ero un pochino reinfervorato ce l'ho avuto una ventina d'anni e un giorno nella parrocchia dove stavo c'erano i francescani chiamano un missionario questo stava in Africa sono abbastanza carattere abbastanza forte proprio ruspante no infatti a me è stato subito un pochino antipatico questo dettora a un certo punto racconta la sua esperienza un'esperienza molto forte molto cruda e dice a un certo punto si sente padre ma noi che possiamo fare per tutti questi poveracci verso cui sta in missione sapete che ha risposto questo non mi dimenticherò mai non sprecare l'acqua non sprecare l'acqua quando fai la doccia usa l'acqua strettamente necessaria non di più perché lì i ragazzini a parte che inseravano ma muoiono di sede perché non c'è stata l'acqua a potere quindi non sprecare l'acqua io sono rimasto sono rimasto perché tante cose noi che viviamo nella società comunque del benessere certamente sono anche i tanti poveri ecco per cui però fondamentalmente in occidente ma noi non ci rendiamo conto di tante cose Gesù era povero c'era questo bene di valore affettivo che gli hanno fatto secco ecco questo è un pochino un po' un primo argomento di riflessione perché ricordiamo sempre dicevo nella meditazione di questa mattina questa mattina c'era anche un pochino di gire fare i giri nella divina volontà è una cosa come dire relativamente semplice basta che si impara a farli perché tutti gli atti divini li hanno già fatti tutti Gesù e Maria dobbiamo soltanto prenderli e farli nostri attenzione però io posso divinizzare quali azioni tra quelle che faccio quelle indifferenti o quelle buone ma non quelle cattive e anche tra quelle buone se voglio vivere nella divina volontà c'è il buono c'è il migliore c'è il perfetto allora in che grado viveva le virtù la Madonna domanda retorica ecco quindi questo tema della santa povertà evangelica noi ce lo dobbiamo porre perché è un tema molto rilevante con la vita nella divina volontà perché certamente la divina volontà questo lo dice chiaramente Gesù nel Vangelo la divina volontà è favorevole agli accumuli di ricchezze assolutamente no la parabola del ricco stolto e la parabola del ricco epulone no così è di chi accumula beni per sé chiude la parabola di epulone no di epulone del ricco stolto e non arricchisce davanti a Dio vendete ciò che avete e datelo nell'emosina fatevi borse e tesori nel cielo questo lo dice Gesù chi viene a me e non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo non potete servire a Dio e a Mammona Mammona non è Mammona Mammona facendo sempre almeno una domanda quanto la mia vita è improntata all'essenzialità quanto facilmente butto sperpero i soldi in cose che non servono o che non sono né utili né necessarie quanti sprechi faccio e quanto sono capace di condividere gratuitamente dal mio dalle mie risorse per buoni fini con chi è più necessario anche proprio parlando di elemosina anche qui Papa Francesco ha detto tante volte che non basta non fare il male non faccio niente di male qui bisogna fare il bene l'elemosina non è non fare nulla di male ma è fare il bene mettersi le mani in tasca d'accordo eh e tirarlo fuori pieni di beni da 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 condividere lo facciamo questo qui quanto lo facciamo io invito chi ascolterà questa 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 catechesi riguardo questo punto poi andiamo oltre che se no ci dilunghiamo troppo fai questa domanda chiediti quanti soldi ti sono passati nel conto tra le mani in tutta la tua vita facciamo finta 50.000 euro di questi 50.000 quanti tu hai condiviso con chi è più del necessario 50 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 la metà 25.000 due terzi 33.000 vediamo che risposta ci diamo perché da come ci diamo la la risposta dipendono molte cose ora e questo è un argomento che non è capite non è estraneo perché qual è la divina volontà la divina volontà è questo la divina volontà è che noi certamente facciamo una vita decorosa e dignitosa la prima lettura di questa di questa sera non darmi né povertà né ricchezze ma tutto quello che ci transita oltre e anche a volte questo è ancora più meritorio l'obolo della 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 vedova quando io rinuncio addirittura a qualcosa che sarebbe necessario per amore del prossimo per condividere è chiaro che la divina volontà è che noi siamo larghi nel dare che imitiamo l'agire di Dio che dà tutto e chi la fa con perfezione assoluta e chi è capace di dare tutto certo io ho cinque figli che faccio è evidente che lì non puoi fare però però mi tartassano le tasse e qua altro come ce li faccio uscire abbiamo sempre una coscienza che deve mettersi davanti a Dio Dio conosce le situazioni conosce le esigenze conosce le necessità è chiaro che tu non è che per fare lemosina fai morire fame i tuoi figli per dire che morire fame è un pochino difficile però magari facendo qualche piccolo sforzo non sarà una grande cifra perché la famiglia però qualche cosa ci scappa ma qui anche qui l'educazione che noi diamo in famiglia ai figli deve essere un pochino improntata non dico proprio all'essenzialità ma noi alla all'accumulo all'accumulo di bene in continuazione a me non piace neanche tanto fare questi discorsi perché possono sembrare anche un po' non vorrei che fossero entesi in questo modo un po' moralistici un po' cose di questo genere oppure retorici acquatrite e ritrite però pensate tra poco non vedo l'ora riariva Natale questi ragazzini che a Natale bombardati non sanno più dove mettersi giochi e 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 giochi cioè quello tuo al ragazzino lo abitua la logica dei paperoni dei paperoni accumula accumula che cedeva con tutti quei giochi non sanno manco non sanno manco qua qua ce l'hanno in camera oppure pensate a un segreto che soltanto la sapienza di nostro signore lo valica quante paglie di scarpe hanno certe donne non sanno ma che ce devono fare capito quelle diventavano tutti quanti cioè un paio di scarpe costasse pure 50 euro 50 euro se tu li dai a chi li spende bene per sfommare i poveri c'è fa più di qualcosa perché li devi buttare in questo modo capite cioè dici eh però che pizza cioè così la vita diventa pesante non diventa pesante la vita diventa più bella diventa perché cioè se noi cioè voglio vivere nella divina volontà voglio vivere nella divina volontà l'opzione fondamentale previa è che tu diventa santo figlio mio cioè la vita santa presuppone certamente un indirizzo che uno dà all'esistenza a volte un indirizzo anche impegnativo capito eh perché se fossero se fosse così alla portata di tutti diventare santi saremo santi tutti capito ecco chiudiamo questa parentesi perché ci siamo non volevo soffermarmi su queste cose quindi evidentemente era opportuno cioè non volevo nel senso che non c'era proprio pensato ecco è venuto un pochino spontaneo questo questo discorso però c'entra insomma perché Gesù in croce non c'è nient'altro che questo che era unica e le resti gli hanno fatte secche pure quelle zero tra poco è il transito di San Francesco no io conosco bene San Francesco perché come ho accennato la giovane frequentava una parrocchia dove c'erano i frati minori no e anche loro sapete che San Francesco quando è morto espresse come desiderio e li fu fatto dai frati di essere deposto nudo sulla nuda terra ricordate il profeta libro di Giove no nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò ma San Paolo dice non abbiamo portato nulla in questo mondo non ci possiamo portare nulla dietro una cosa possiamo portarci questo sì il patrimonio delle buone opere compiute diceva il mio Federico questa sera durante la messa guarda che se tu prendi un po' di soldi e li dai poveri li togli dal conto in banca terreno ma immediatamente appena le mosi arriva a destinazione hai già fatto un versamento sulla banca del cielo subito e quindi te li ritrovi tutti quanti dopo che sei morto allora vogliamo mettere un po' di soldi nella banca del cielo oppure no che è l'unico modo che portassi dall'altra parte allora quindi Adamo si è diviso le vesti di rinocenza con le passioni e si è giocato la tonica della sua volontà e a Gesù gli si è fatto presente nel vedere nel rivedere questa brutta scena dell'Eden e neanche un'altra cosa e qui ci riguarda da vicino mi ci fese presente quando le creature facendo la loro volontà fanno un gioco della mia perché la tonica l'hanno tirata a sorte sono messi a giocare con la tonica fatta dalla Madonna ogni volta che noi facciamo la nostra volontà umana dice Gesù è come se stessimo giocando a dadi ci stiamo giocando a dadi a chi tocca la veste della divina volontà e ogni volta che noi assecondiamo le nostre innumerevoli passioni noi stiamo lacerando la veste dell'innocenza noi non possiamo essere perfettamente innocenti ma sappiamo insomma che quando siamo in grazia non siamo innocenti ma siamo riconciliati quindi riacquisiamo uno stato di amicizia con Dio appena ricominciano a partire le passioni lo perdiamo attenzione attenzione ritorniamo sul punto che Adamo non era coperto di vesti materiali quella veste di luce non aveva bisogno di vesti materiali solo dopo che Adamo si è allontanato dalla divina volontà si sente nudo e comincia a coprire la nudità con vesti materiali quindi la divina volontà ci ammanta a tutti di un alone di luce e ci mette in condizione di riprendere un certo dominio abbiamo visto anche nella meditazione di questa mattina per chi l'ha sentita sulla nostra passione l'attenzione lo sforzo di entrare sempre più e sempre meglio nella divina volontà io queste cose le ho dette altre volte ci aiuta e ci favorisce fortemente il processo di presa di dominio sulle nostre passioni perché noi facciamo esperienza che le nostre passioni pensiamo alle più violente pensiamo anche schiavo della lussuria per esempio è una bella ci vuole una bella forza togliersi questa cosa pensiamo anche schiavo dell'ira delle passioni siamo schiavi di chi non riesce a non arrabbiarsi adesso facciamo un po' di esempi pensiamo a fare come al solito un bel po' di esempi pensiamo anche schiavo del fumo non ci riesco a smettere di fumare pensiamo a chi è schiavo dell'alcol pensiamo a chi è schiavo del fatto che mangia troppo e diventa obeso pensiamo a chi è schiavo di quello che pensano gli altri che non fa una cosa se non in base a quello che poi gli altri penseranno di me pensiamo a chi è schiavo della stima propria pensiamo a chi è schiavo dei soldi la passione dell'avidità che poi genera l'avarizia pensiamo a chi è schiavo della propria immagine della bellezza del successo della moda capite quanto ce ne stanno insomma di schiavi guardate che da alcune di queste cose dico sempre dico sì tu fai tanto adesso lo dobbiamo dimostrare capito lo vogliamo dimostrare cominciamo a tagliare con queste cose è possibile a un uomo non arrabbiarsi mai certo che è possibile pensiamo anche schiavo per esempio vezzo oggi molto molto frequente di parlare in maniera sboccacciata cioè io ci provo ma ogni tanto anche parolaccia mi scappa oppure pensiamo a chi è schiavo del pettegolezzo del chiacchiericcio del giudizio non sa fare una conversazione senza gettare fango su qualcuno allora cioè ecco qui ritorniamo un'altra volta a terra tutte queste cose sono tutti quanti disordini lo sappiamo figli del fatto che abbiamo perso la tunica della luce del divinvolere e la veste dell'innocenza per cui tutte quante queste passioni stanno continuamente impazzite lacerandoci violandosi facendoci stare male allora che succede che delle volte uno veramente come dire capisce che queste cose ti fanno stare male e quindi dice ma c'è proprio trova tante difficoltà allora le difficoltà di che uno avessi iscritto non devono mai scoraggiarci d'accordo perché la vittoria contro una passione a volte può richiedere mesi anni anche decenni addirittura in qualche in qualche caso come hanno lasciato scritto tanti santi ecco però che cosa succede se uno comincia ad entrare nel regno della divina volontà sul serio e per questo accade ci vuole le conoscenze ma ci vuole una volontà fermissima e risoluta fermissima e risoluta è disposta anche a una bella canzone di Deborah Vezzani Inri dice a costo di qualunque sacrificio io dentro questo mondo ci voglio entrare e quindi si cominciano quantomeno tutte quante le porte che si devono aprire quando uno vuole entrare nel regno del divinvolere non è una cosa sola è un insieme è un fascio di portoni che si devono aprire comincia a fare gli atti nel divinvolere fondi miei con quelli di Gesù è chiaro che la portata santificante di un atto di questo genere io la sento esce anche fuori di me ma esce anzitutto dentro di me e quindi comincerò a vedere che si le passioni ci stanno e si fa fatica a superarli però comincerò a sentirmi più forte e non soltanto a livello di sentimento nel senso che se vado a fare l'esame di coscienza su una passione su una passione predominante la devo vedere calare non dica ritmi vertiginosi perché tanto è meglio che cala anche giorno dopo giorno e costantemente piuttosto che faccia un botto di un giorno solo e il giorno dopo fa come dicono le borse quando restano i cori di borse fa rimbalzo quindi fa l'effetto yo-yo quindi sei sceso e poi schizzi peggio di prima no però indubbiamente il controllo delle passioni costituisce parte integrante della vita nel divinvolere e Gesù vi spiega un'altra cosa il fatto che non era vestito lui e la Madonna con le luci della divina volontà e con la veste dell'innocenza aveva molte ragioni di convenienza chiudiamo anche su queste considerazioni così come chiude lo scritto chiudiamo anche questo intervento Gesù risponde all'obiezione di Luisa e l'obiezione non è soltanto derivante dal fatto che Gesù non voleva assumere nessun'altra condizione che non fosse quella solidale con l'uomo decaduto anche il fatto che Gesù ha sofferto noi sappiamo che le sofferenze nello stato di natura integra non ci stava ma Gesù ha sofferto tantissimo ha sofferto nello spirito e nel corpo la Madonna noi sappiamo che non ha sofferto nel corpo la passione ma c'è qualcuno che ci ha mai assicurato qualcuno gli ha mai fatto che per esempio una Madonna in privato non si fosse afflitta nella carne siamo sicuri non faceva mai un digiuno dormiva sempre nel suo letto orizzontale o qualche volta no io ricordo benissimo che San Giovanni ved nel libro dedicato al cuore ammirabile di Gesù se non ricordo male a un certo punto dà queste informazioni lui la dà per certa non so dove l'ha presa ma la dà per certa che la Madonna portava il civizio addosso fin da quando c'aveva tre anni quindi se tutte queste cose fossero vere e io sinceramente lo ritengo altamente anche la Madonna è stata con noi solidale soffrendo non soltanto nel suo cuore immacolato trafitto non da sette ma da milioni di spade come si legge negli scritti ma anche nel suo corpo santissimo e virginale avrebbe sofferto solo che il Signore non ha voluto che il suo corpo fosse come dire toccato violato e maltrattato da altri e tantomeno esposto insomma al pubblico questo per riguardo del tutto peculiare che l'altissimo ha nei confronti della Vergine perpetua però accanto a questa modificazione di solidarietà ce n'è un'altra di convenienza e questo ci aiuta a ricordare dobbiamo ricordarlo sempre cioè io veramente quando faccio delle considerazioni e leggo certe cose mi viene subito nella mia mente questa escalazione dico stupende sono le tue opere Dio mio tu sei proprio perfetto nelle cose che fai perché Dio non lascia neanche mezza virgola al caso allora dice ma se io vengo vestito in vesti di luce la gente scappa si vergognano cioè non è che si vergognano rimangono abbagliati sarebbe stato tutto quanto più complicato no? tra l'altro quindi Gesù non ci è venuto con la veste di luce è venuto con la veste era vestito come noi certamente era vestito bene come come ma era venuto era vestito così perché la luce del sole del mio volere spiega Gesù li avrebbe accecati e stramazzati a terra accecati e stramazzati a terra quindi il problema è che non soltanto non sarebbe stata una cosa fatta bene in relazione al principio della solidarietà di Gesù e di Maria con la condizione umana decaduta che loro hanno voluto prendere e condividere ma non sarebbe stato nemmeno prudente ecco un'altra virtù molto importante abbiamo parlato della povertà cioè non era prudente che il fulgore derivante dalla fusione con la divina volontà trasparisse all'esterno in Gesù e in Maria non lo era e questo perché perché dopo il peccato sono venuti sulla terra sia Gesù che Maria non soltanto per vivere le loro delizie tra i figli degli uomini ma anche per vivere il fiat e per compiere il fiat redimente per inaugurare il fiat santificante e quindi questo chiaramente comportava la necessità di scegliere un certo stile e non sarebbe stato né prudente né conveniente fare il contrario Gesù dice testualmente ma senti po' ma se io venivo vestito di luce ma chi è che mi avrebbe usato toccare durante la passione nessuno giusto e come si sarebbero avvicinati a me chi si si avvicina a me nessuno e come nel corso e come qualcuno si può ardire di toccarmi pensiamo ad esempio durante la passione cita qui chi avrebbe avuto l'ordine di toccarmi pensiamo a quel gesto sempre bellissimo e verificante della cosiddetta Veronica Gesù stava ridotto poverino non so se si può dire penso uno straccio in quel momento lì quindi faceva bene confazione a chiunque appunto perché anche lì assoggettandosi a come dire alla legge ordinale dell'essere umano se l'essere umano soffre soffre e me ne prendo le sofferenze con gioia e con amore allora ecco tutte quante queste brutte cose quindi la veste tirata la tunica tirata a sorte le vesti stracciate che hanno che involto ad amo ma che hanno che involto di sponda anche tutta la razza umana e il genere umano ci fa comprendere la verità con cui Gesù conclude questo brano bellissimo col non fare la nostra volontà la nostra volontà con la V maiuscola con Gesù che parla non c'è bene che non si perda e non c'è male che non si acquisti tutto il pieno piazza pulita e quindi non c'è bene che non si perda non c'è male che non si acquisti e quindi la vita di Gesù di Maria che cosa è stata un accumulare beni su beni di ogni tipo di ogni grazia per devorre di volere e fare in modo che stessero sempre a nostra disposizione non c'è bene che non si perda e non c'è male che non si acquisti uscendo dalla divina volontà e non c'è male quindi potenzialmente stiamo a no di inizio ecco ci lasciamo con queste suggestioni suggerite da da Gesù raccomando anche se questa è una catechesi non è una meditazione un momento di preghiera se qualcuno possa essere rimasto in qualche modo peccato colpito quindi se la grazia si è degnata di passare attraverso le mie povere parole perché qualcuno potesse esserne in qualche modo edificato ci pensi ripensi tutte quante le suggestioni che abbiamo visto questa sera ripensi al discorso sulla povertà ripensi al discorso anche sulla prudenza sull'importanza del non apparire del nascondere le nostre cose ripensi anche all'importanza che ha l'esercitarsi il vivere l'approfondire il volere il divino volere scusate volere la vita la divina volontà in ordine al rafforzamento che noi acquisiamo per combattere contro le passioni e fare in modo che queste passioni non continuino a squarciarci in continuazione la veste dell'innocenza la tunica della divina volontà ha un rapporto come dire funzionale con le vesti perché se c'è la divina volontà le vesti non saranno strappate se la divina volontà non c'è siamo noi stessi che ci strappiamo le vesti come con gli atti compiuti in forza della nostra volontà umana bene la benedizione a tutti e l'appuntamento se credete alla prossima settimana sempre ordinariamente di mercoledì di martedì scusate anche questa settimana per un impegno l'abbiamo fatta di mercoledì ma ricordiamo sempre che per chi segue in diretta soprattutto queste cose ordinariamente la diretta va in onda il martedì sera alle 21.30 la mia benedizione a tutti una santa notte ave Maria Maria